Buondì agli amici della Casa La Chiave. Oggi chiavi per camper, cliente, provo molto per andare in Sardegna. Ecco qua, abbiamo duplicato la chiave col telecomando e la chiave, quella con il cappuccio rosso, per i vari sportelli che è in giro. Andiamo a fare quella col telecomando. Così apre. Così apre. Così pulo. Ok. Vediamo l'accensione. Se funge, mia chiave. Ottimo. Alla grande. Adesso andiamo a vedere le chiavi. Dei vari sportelli che ha in giro. Ecco qua. Funge. Benissimo. 21 agosto, Milano. Casa della Chiave number one. Ciao. 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 Grazie a tutti